a chi fa tu scuidassi come non li chiamavano a noi corronessi come non li chiamavano per incretati perché avevano le scorte sporche di terra e di fallo come i veddani e i pecorani avevo garantito io personalmente salvo lima mi aveva giurato che la cassazione sistemava tutto e poi l'amico del roma e chi so il risultato